Ciao a tutti! Oggi prepareremo le uova alla pizzaiola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono uova, gorgonzola che è facoltativo, salsa di pomodoro, origano, olio, sale, pepe, aglio e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio. E lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio, aggiungere la salsa di pomodoro, aggiungere il sale e cuocere per 15 minuti, 100 gradi, velocità 2. Abbiamo rivestito il vassoio del Varoma con un foglio di carta da forno bagnato e strizzato. Versare la salsa di pomodoro nel Varoma. Senza lavare il boccale, mettere l'acqua, chiudere con il coperchio, mettere sulla salsa le uova, il sale, il pepe, l'origano ed il gorgonzola che è facoltativo. Posizionare il Varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti temperatura Varoma, velocità 2. Le uova sono cotte, impiattare e servire. Uova alla pizzaiola Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie per la visione!